I messaggi lanciati dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa nel corso della sua visita a Siracusa sono indubbiamente positivi. Il nostro territorio ha necessità di rilanciare le operazioni di bonifica per risanare i guasti prodotti da decenni di industrializzazione selvaggia. Lo dichiarano Giuseppe D'Aquila, Emanuele Dignoti Parenti e Andrea Bottaro, rispettivamente segretari generali di Filctem CGL, Femca CISL e Wiltec Wil di Siracusa. Ci auguriamo di non assistere all'ennesimo atto della politica degli annunci poiché si è scelto di escludere da questa discussione i lavoratori dell'area industriale. Sembra ci siano le risorse per finanziare le bonifiche, occorre comprendere a cosa ci si riferisce, quali interventi vanno messi in campo e soprattutto se sono in coerenza con l'accordo di programma sulle bonifiche 2005. Va ribadita la necessità, continuano i tre sindacalisti, di effettuare le bonifiche ai fini del riutilizzo delle aree per progetti industriali futuri, in quanto è imprescindibile per il sindacato la necessità di mantenere la vocazione industriale del territorio. In questo contesto siamo preoccupati per l'avallo del Ministro dell'Ambiente al Piano per la Qualità dell'Area della Regione Siciliana, che a nostro avviso non contempla la gradualità necessaria a gestire la transazione che compromettono l'esistenza in vita di molti insediamenti produttivi siciliani, soprattutto quelli dell'area industriale siracusana. Su questi temi ormai da tempo il sindacato invoca un confronto serio sul merito con approccio scientifico, poiché crediamo nell'esistenza di un modello di sviluppo industriale che può ben conungarsi con la salute e il benessere dei cittadini del territorio.